Il porto di Milano Il porto di Genova Ma se c'è una cosa su cui la Lombardia non potrà mai fare concorrenza alla Liguria Non avendo il mare, è il porto Però evidentemente questo non è solo il porto di Genova Ricordo che circa la metà delle merci che arrivano in questo porto Sono destinate alla Lombardia E dunque non ci può non essere una relazione stretta e costruttiva Tra la Lombardia che è lo sbocco della metà delle merci Che transitano da questo porto E il porto che rappresenta per la Lombardia la principale via di accesso al mare Quindi la prospettiva di questo lavoro, di questo incontro di oggi Non può che essere un forte lavoro che da oggi insieme al Piemonte Con cui condividiamo la necessità di una strategia comune insieme alla Liguria Comincia per costruire iniziative concrete che valorizzino il porto di Genova Nell'interesse di tutti Il Piemonte è interessato a stringere degli accordi che siano il più velocemente possibile Rappresentabili anche al Governo nazionale Per realizzare progetti su un'area, quella del nord-ovest Che punta a diventare un punto di riferimento per la logistica internazionale E quando si parla di logistica si parla ovviamente di porti Della possibilità di competere a livello internazionale nel sistema di movimentazione delle merci E si parla di retroportualità E quindi il Piemonte si candida naturalmente a relazionarsi con la Liguria Per trasformare alcuni dei nostri territori nello sbocco naturale per le merci che approdano nel Porto Ligure Quindi siamo entusiasti di quello che abbiamo visto e siamo desiderosi di trasformare le idee Che in questi mesi abbiamo condiviso con la Liguria e con la Lombardia In un progetto concreto che ci consenta di essere al centro dell'Europa Come è naturale che sia per il Porto di Genova e per il nord-ovest Certamente subito la mente corre al terzo valico Che peraltro è un progetto che è già stato avviato Che deve essere completato nei finanziamenti ma non è più alla fase delle idee È già alla fase ormai praticamente del cantiere Bisogna però anche ricordare che molte infrastrutture esistono già Con le infrastrutture che abbiamo possiamo certamente fare di più Per usare meglio il Porto e per offrire una retroportualità adeguata Non usiamo la carenza delle infrastrutture come la giustificazione Per non fare neppure quello che oggi nell'interesse comune, lo ripeto, delle nostre regioni Potremmo già fare con le infrastrutture che abbiamo Lei ha parlato di Genova come Porto di Milano e anche di Torino Anche Porto dell'Expo 2015 Certamente sì Noi abbiamo avviato qualche mese fa un tavolo della mobilità delle merci Con tutti i principali operatori della Lombardia Ed è stato naturale per me invitare a quel tavolo Il Presidente dell'Autorità Portuale di Genova E degli altri porti del Tirreno vicini a Milano Quindi quelli della Liguria Perché è ovvio e naturale che il triangolo a cui guardiamo per la logistica delle merci È un triangolo che ha la base nei porti Liguri Il vertice nell'asse del Gottardo Che tra poco ci consentirà di andare più rapidamente che mai nel cuore dell'Europa E in mezzo all'aeroporto di Malpensa Ecco, con una battuta potremmo dire che dobbiamo costruire una grande alleanza Che renda Malpensa l'aeroporto dei Genovesi sempre più E Genova il porto dei Milanesi sempre più C'è una forte concorrenza nel nord Europa Soprattutto il traffico intermodale Che parte dai terminal intermodali della Lombardia E anche del Piemonte Per esempio da Novara Ma anche da Lupa di Gallarate Tende ad andare verso i porti del nord Europa Di Anversa, di Amsterdam, di Hamburgo e così via E non a venire verso Genova Per una serie di ragioni a cui dobbiamo rimediare Ci sono aspetti a cui deve rimediare la legislazione nazionale Certamente rendendo più agevole le normative fiscali E alcune normative di organizzazione del porto Ce ne sono altri a cui può ovviare anche una più forte collaborazione fra le regioni interessate Il senso della nostra presenza qui oggi E del lavoro, ripeto, che da oggi comincia È quello di voler tradurre questa collaborazione Da una volontà politica a una serie di fatti concreti Quali saranno i prossimi passi verso questa piattaforma logistica del nord Europa? Senz'altro quello di costruire le condizioni per intercettare i capitali privati In un momento in cui la crisi ci obbliga a fare i conti anche con le risorse disponibili E in cui la prospettiva di realizzare nuove infrastrutture si impone come un obiettivo Abbiamo il dovere non di fermarci a ragionare su quanti pochi soldi abbia lo Stato da investire Ma individuare dei percorsi nuovi Si può, perché gli operatori che movimentano le merci a livello internazionale Sono interessati a dialogare con governi che abbiano la capacità di garantire procedure certe Tempi rapidi e un progetto credibile per chi deve investire del denaro Parte dalle regioni del nord ovest, indirizzato al governo, la richiesta di aiutarci a compiere questo cammino